Arrivò dal vicolo e salì i gradini sul retro, come sempre. Doc non la vedeva da più di un anno, né Doc né nessun altro. Prima vestiva immancabilmente in sandali, slip di bichini a fiori e maglietta stinta di Country Joe and the Fish. Stasera invece era tutta in stile terraferma, i capelli molto più corti di come lui li ricordava. Insomma, combinata proprio come ai tempi, giurava che non si sarebbe mai conciata.